Cari amici un caloroso saluto e benvenuti qui a San Vittore Olona ormai avete capito dove mi trovo da Autoformula e avete riconosciuto anche lui non sembra sotto la mascherina c'è il Claudio che vi aspetta naturalmente per farvi vedere tutte le splendide novità le certezze ma anche per raccontarvi qui come si sono messi in in sicurezza proprio per la garanzia della sicurezza di tutti gli amici che verranno anche io ho difficoltà a parlare quindi Claudio a te la parola. Grazie Clara della presentazione adesso mi sposto a più di un metro in modo da potermi liberare di questa mascherina che in questo periodo come non mai serve volevo ricordare naturalmente a tutti i clienti che ci verranno a trovare innanzitutto che se vogliono prima possono telefonarci in modo da potergli mandare una mail e dagli un invito scritto. Nel momento in cui verranno a cercarci e a trovarci naturalmente abbiamo predisposto tutta una serie di sistemi di sicurezza importantissimi quindi dal detergente appena entri con i guanti appositi abbiamo comunque delle mascherine per chi ancora purtroppo non ne fosse ancora provvisto. Ogni ufficio ha una lastra che divide la sezione vendita diciamo dalla sezione cliente dall'eventuale compratore o colui che si sta interessando alla vettura. Abbiamo un sistema di igienizzazione di tutte le macchine naturalmente anche un sistema un metodo di consegna che per forza è dovuto cambiare quindi le macchine verranno consegnate praticamente una sorta di sterilizzato. In questi due mesi Autoformula non si è fermato ha reperito ancora tantissime macchine e abbiamo l'opportunità e la disponibilità di tutta la gamma a partire da Ignis fino ad arrivare a Vitara di vetture aziendali a chilometro zero che nel corso della puntata vi spiegherò. Naturalmente abbiamo fatto dei passi avanti quella che voglio fare adesso è solo una semplice premessa abbiamo fatto dei passi avanti anche dal punto di vista finanziario e formule di pagamento quindi oltre a quello che è classico c'è sempre contraddistinto abbiamo aggiunto anche delle situazioni relative a poter posticipare la rata quindi abbiamo delle rate addirittura a 180 giorni che tradotto significa la fine dell'anno. Quindi ci mettiamo anche nelle condizioni di capire il cliente che magari in questo momento ha più necessità Autoformula c'è ha lavorato per questi clienti ma ha lavorato anche per coloro che ne vogliono usufruire senza avere magari una necessità così estrema. Adesso step by step andiamo a vedere un attimino a rinfrescare più che a vedere perché la gamma la conosciamo già tutta la gamma partendo dalla nostra Ignis che è la macchina più piccolina vi ricordo 3,70 metri 4 portiere quindi è una macchina anche abbastanza confortevole per la giovane mamma ma piuttosto che per una questione di comodità nella mobilità motore 1.2 hybrid è un motore eccezionale dei consumi veramente super parsimoniosi vi ricordo il nostro hybrid che è un hybrid molto semplice un mild hybrid quindi nel momento in cui accelero io la faccio molto breve vado a utilizzare tutte e due le tecnologie nel momento in cui deccelero vado a ricaricare quello che è il discorso batteria quindi il discorso dell'ibrido. Gli allestimenti sono sempre completi gli allestimenti in questo caso sono due la versione cool e la versione top macchine sempre comunque dotate di clima radio servosterzo vetri elettrici chiusura antifurto telecamera posteriore cerchi neri barri al tetto insomma vetture super super complete. In questo momento della registrazione non ho qui il modellier 2020 però vi voglio ricordare che in autoformula in arrivo il modellier 2020 che non è nient'altro che la stessa Ignis modificata dal punto di vista dei paraurti anteriore e posteriore sostanzialmente e con l'aggiunta anche di un motore un attimino più più evoluto rispetto al K12C che è la sigla del motore che equipaggia queste versioni. Importante sapere che con la nuova versione introduciamo la prima Suzuki ibrida anche con cambio automatico. Prezzo non cambia sostanzialmente perché partiamo con la versione cool modellier 2020 partiamo da 14.500 euro senza nessun tipo di permuta o vincolo legato a finanziamenti o situazioni del genere. Le aspettiamo veramente numerosi abbiamo tantissime macchine in consegna quindi diciamo che adesso nel periodo fine primavera inizio estate avremo disponibilità di colori un pochettino per tutti e vi ricordo essere la vettura più piccola. Naturalmente le vetture sono anche qui disponibili eventualmente capiremo con le nuove modalità come fare per il test drive importantissimo. Qualora non dovesse essere ancora una macchina passo dietro ma sono sicuro che è grande abbastanza sufficienza la seconda macchina per grandezza in gamma Suzuki è la Swift il cavallo di battaglia macchina eccezionale. La nostra piccola macchina giapponese anche in questo caso sono vetture solo 5 portiere sono macchine con gli stessi motori medesimi di Ignis quindi motori 1200 ibridi quindi benzina ed elettrico. Passo indietro sia per quanto riguarda la Ignis sia per quanto riguarda la Swift il cavallo di battaglia non me lo posso dimenticare. Naturalmente si possono avere trazione integrale fondamentale per il marchio Suzuki che ha fatto la forza di questa cosa. Importante partiamo dal prezzo Swift da 12.950 euro nel corso dell'estate anche qui riceveremo una versione aggiornata quindi un model year 2020 vettura praticamente uguale avrà una dotazione di un motore ancora più parsimonioso. E anche Swift in questo caso è la seconda macchina visto che la prima era la Ignis avrà la possibilità di avere l'ibrido accoppiato al cambio automatico. Per quanto riguarda Swift e chi è interessato alla macchina sa che le disponibilità sono rarissime solo in autoformula oltre alla versione cool che è già stracompleta è la versione top che è il non plus ultra fare a led frenata automatica radar riconoscimento pedone. Abbiamo anche una versione abbiamo tre o quattro visibili qui in sede versione serie limitate sono versioni caratterizzate da un'estetica con un cerchio un pochettino particolare macchine in pronta consegna quindi importante sottolineare la pronta consegna delle Suzuki Swift ibride. Quindi vi aspettiamo numerosi per la prova secondo i canoni previsti ormai dalla legge vedere le disponibilità cercare di capire prezzo abbiamo detto da 12.950 che è un prezzo d'attacco incredibile senza vincoli legati a niente importante possibilità di finanziare il tuo acquisto quindi abbiamo detto rate normali che includono furto incendio piuttosto che estensione garanzia. Se ci fosse la necessità o la volontà possiamo fare addirittura la prima rata sei mesi vi ricordo i vari servizi ma poi ne parliamo un po' meglio manutenzione ordinaria per tre anni o cinque anni quindi i vostri italiani già strapagati vi ricordo quello che è un discorso relativo all'assicurazione no problem che ti copre la macchina con 24 mesi di valore a nuovo quindi in caso di furto riconosciamo la fattura per i primi due anni. Le disponibilità abbiamo detto anche queste come Indies per primavera quindi questo periodo è estate possiamo garantire diciamo quasi riuscire a garantire la pronta consegna per tutti quindi disponibilità di prodotto ce n'è tantissimo e la prova secondo quello che sono i canoni di legge in questo momento. Disponibile cambio automatico con ibrido disponibile anche qui trazione integrale quindi vi aspettiamo stranumerosi per la Swift che è un cavallo di battaglia. Dopo avervi fatto vedere le macchine piccole adesso vi faccio vedere le macchine un pochettino più grande S-Cross e Vitara partiamo dalla nostra ammiraglia che a febbraio abbiamo battezzato con il nuovo motore ibrido quindi benzina ed elettrica macchina eccezionale disponibile in tre allestimenti versione cool versione top e versione inizialmente launch edition che è una versione con degli accessori in più montanti. Partiamo sempre da un prodotto molto ricco vi ricordo che su S-Cross ma poi lo andremo a vedere anche su Vitara abbiamo sempre frenata automatica riconoscimento linea di carreggiata quindi sono prodotti che dove anche l'Adas che è il sistema di sicurezza di seconda generazione è già di serie su tutte le macchine. Mi sono dotato di foglio perché tutto non mi posso ricordare qui abbiamo delle campagne fresche fresche appena sfornate come si suol dire. Allora S-Cross ibrida senza nessun tipo di vincolo legato a permute o situazioni del genere siamo in grado di proporla a 20.990 euro e quello è un discorso quindi per chi si vuole affacciare l'ibrido alla grandissima vetture pronte a consegna bianca nera grigia blu le abbiamo per tutti i gusti. Importante però la campagna che si è andata ad affiancare quindi per coloro che non volessero la versione ibrida ma ripeto sono ancora diciamo affezionati al benzina oppure per mille motivi vogliono ancora la versione benzina abbiamo delle campagne che diciamo non stanno né in cielo né in terra. Perché riusciamo a proporre scusate se non vi seguo col viso 15.990 euro una versione cool quindi già una versione con cerchi lega vetri scuri clima automatico telecamera dietro a meno di 16.000 euro nuova naturalmente o addirittura con un migliaio di euro in più questo per quanto riguarda il motore 1000 con un migliaio di euro in più quindi per andare sul motore 1400 abbiamo anche la versione 1400 quindi con meno di 17.000 euro porto a casa un S-Cross 1400 turbo eccezionale 140 cavalli in allestimento cool vi voglio ricordare naturalmente di S-Cross che abbiamo disponibilità di parecchie unità anche a chilometro zero in versione 1000 booster jet e abbiamo ancora un paio di unità 4x4 cambio automatico diesel importantissimo mi sposto molto velocemente da S-Cross a Vitara. Vitara è un gioiellino della tecnologia una macchina 4,20 metri quindi sì ok è una macchina grande ma non grandissima non è un prodotto difficile da parcheggiare difficile da utilizzare cofano piatto facilmente è facile da guidare facile da manovrare macchina eccezionale anche qui come S-Cross abbiamo introdotto il 1400 turbo ibrido a febbraio eccezionale pronta consegna due allestimenti cool e top prezzi anche qui incredibili li devo vedere perché sono veramente promozionati 20.950 euro quindi partiamo da 20.950 euro per avere la Vitara già ricca quindi il nostro partire vuol dire già avere una macchina come vi dicevo prima con radar frenata automatica e quant'altro. in questo caso però a differenza degli altri prodotti vi ho fatto vedere ci serve una macchina in permuta che sia da rottamare o che sia in permuta qualora fosse da rottamare vediamo se riusciamo ad estrapolare qualcosina non garantisco niente ma ci proviamo qualora fosse invece una permuta cerchiamo di fare il top della valutazione la vediamo ci accordiamo con appuntamento e sicuramente cercheremo di darvi il top del prezzo. importante anche qui abbiamo delle unità benzina quindi per chi non volesse l'ibrido le ultime unità benzina sempre vincolate alla permuta allora 16.490 euro quindi meno di 16.500 euro per portare a caso una Vitara 1000 cool booster jet 112 cavalli eccezionale cerchi in lega vetri scuri e quant'altro. a differenza di S-Cross dove abbiamo qualche macchina aziendale su Vitara abbiamo ancora una flotta abbastanza nutrite di 1.400 cambio automatico 1.400 ruote motrici in allestimento cool a meno di 20.000 euro comprensivo sempre vi voglio ricordare di bollo di 3 anni di garanzia naturalmente di pacchetto invernale cerchi e gomme quindi sul Vitara 1000 km 0 e 4 ruote motrici con meno di 20.000 euro un treno di gomme completo invernale cerchio gomma sensore pressione pneumatico bollo vettura e 3 anni di garanzia possibilità naturalmente di scegliere il colore perché ne abbiamo di diverse e oltretutto degli anni 2017 2018 abbiamo delle vetture aziendali anche cambio automatico in allestimento quelli più speciali quindi lo Yoru l'exclusive la top 2 4 ruote motrici anche automatiche me lo sono segnato sono macchine dove riusciamo a partire da 14.500 euro quindi prezzi eccezionali telefonateci guardate il nostro sito www.autoformula.com mandateci una mail autoformula.it insomma abbiamo tutte le situazioni per cercare di accontentare un pochettino tutti naturalmente in chiusura quello che vi anticipavo durante la trasmissione Suzuki Auto Formula e vetture sicuramente la prima cosa ma oggi come oggi anche servizi quindi importantissimo assicurazione no problem con valore a nuovo 24 mesi quindi in caso di furto per i primi due anni vi riconosciamo quello che è la fattura della macchina finanziamenti come vi ho anticipato prima oltre ai vari finanziamenti quindi finanziamento con dentro frutto incendio finanziamento con dentro estensione garanzia abbiamo introdotto questo nuovo finanziamento eccezionale che vi dà diritto e la possibilità di pagare la macchina con prima rata a sei mesi quindi comodamente in inverno se questo magari non è uno dei momenti migliori vi ricordo un'altra formula di finanziamento che abbiamo introdotto che è la solution eccezionale posso comprare una macchina oggi pagarla comodamente per tre anni e tra tre anni decidere se restituire la macchina sostituirla con un'altra macchina o addirittura vi siete trovati talmente bene che volete tenere la macchina eccezionale vi ricordo anche il discorso relativo a quello che è l'officina in questo momento devo ricordarvelo perché oltre tutto quello che abbiamo sempre fatto quindi da manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutti i lavori servizio gom in questo momento autoformula igienizza anche le letture quindi importantissimo in un momento come questo dove la pulizia è già fondamentale ma in questo momento ancora di più autoformula c'è quindi non si è dimenticata di nessuno né alla vendita né al post vendita e poi una piccola panoramica sul prodotto aziendale che vi facevo quindi partendo da questo gimi eccezionale macchina del 2020 in una colorazione speciale venite qua a scoprirlo abbiamo due ignis con cambio automatico meno di 10.000 km una grigia argento e una nera bellissime meno di 10.000 km S-Cross qualche disponibilità di cambio automatico trazione integrale gasolio più qualche unità a km 0-1000 benzina per quanto riguarda invece Vitara abbiamo tutte le serie speciali Yoru, Exclusive, Top anche con tetto apribile, cambio automatico con un chilometraggio massimo di 60.000 km hanno 17-18 a partire da 14.500 euro sono prezzi folli vi volevo ricordare che naturalmente oltre la nostra gamma aziendale abbiamo un sacco di usati la promozione che stiamo facendo nel mese di maggio che abbiamo messo a punto veramente da pochissimo questi cascai dei noi li chiamiamo così perché sono dei giorni in cui vogliamo dedicare a tutti i nostri cascai usati e ne abbiamo una quindicina bellissimi tutti diesel un prezzo strepitoso partiamo da 16.800 euro con macchine dove quella più chilometrata ne ha su 15.000 quindi vi aspettiamo numerosi arriva Clara mi devo vestire allora la situazione prevede che è stata una bellissima puntata ci fa un enorme piacere rivedervi e andrà tutto bene ok ok